Ma Michela posso chiedere a te allora tu sei la nostra autista degli autobus di Roma ormai ufficialmente sei la nostra autista avete subito aggressioni incredibili a corcolle quando io sento parlare il sindaco io sono molto arrabbiata e poi c'è stato anche il taglio da parte del sindaco degli autobus che andavano nelle periferie ci puoi spiegare questo? allora io sono molto arrabbiata con il sindaco perché è un anno che tento di parlare con lei finalmente me la trovo in carne ed ossa qui lei ha sempre parlato solo con i sindacati confederali che sono abusivi, che non sono stati rieletti e non ha mai parlato con i lavoratori come me allora lei parla di porta anteriore questo ci fa comprendere che lei è completamente scollato con la realtà cosa vuol dire porta anteriore? significa che vuole far salire le persone davanti e farle scendere dietro perché così noi verifichiamo che hanno pagato il biglietto qui forse non ci rendiamo conto che i mezzi portano una novantina di persone noi ne carichiamo 130 stipate come sardine prendiamo sassi bastonate perché gli autobus non ci sono lei ha tagliato linee nelle periferie e non si rende conto che diversamente abili gli anziani e i bambini anche una fermata spostata di 30 metri è un problema che fa la differenza tra l'uscire e il non uscire di casa lei prende l'8 a mezzogiorno quando è vuoto con la macchinetta che la aspetta fuori prende la metro C di domenica alle 11 venga sui nostri autobus intorno alle 7 e mezzo, 8 della mattina forse si renderebbe conto di quali sono i problemi reali è vergognoso sentirla parlare così è vergognoso che ieri c'erano 150 famiglie sotto la sede di via Prenestina un lavoratore ha collassato implorando il suo stipendio che non prende da 4 mesi e lei non c'era e nessun politico c'era e nessuno si rende conto di come gli esseri umani vengono trattati da bestie